E salve a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro ARA, benvenuti in questa nuova recensione, sigla! Ed eccoci qui con questo model kit per la linea Figure Rise di Bandai, direttamente da Dragon Ball Z, abbiamo tra noi Kid Buu. Esattamente come avete richiesto voi sul sondaggio di Telegram. Vedete ha vinto questo model kit per essere recensito oggi rispetto a una SH Figures di Naruto. Canale Telegram che come sempre se non foste iscritti trovate qui sotto in descrizione. Detto questo, allora andiamo a vedere la confezione. Eccola qua ragazzi, molto molto figa con questa immagine della figure, però è un disegno che rappresenta proprio la figure. Poi qui sul lato vediamo un sacco di pose del nostro Kid Buu e un po' di accessori presenti nella confezione. Sull'altro lato semplicemente l'immagine di Kid Buu, Figure Rise Standard. Su questo lato c'è il bollino Cosmic e qui c'è una piccola biografia che è tradotta anche in inglese addirittura. Quindi se volete leggerla potete mettere in pausa adesso. E sull'altro lato è esattamente uguale al lato opposto. Allora ragazzi, prima di andare a vedere il model kit vi faccio vedere com'è, prima di essere montato. Vedete ci sono tutti questi pezzi nelle griglie. Vanno staccati, si riesce a staccarli molto spesso anche a mani nude, non c'è bisogno di nessuna pinza. E poi basta semplicemente assembrarli senza bisogno di nessun collante. Se volete vedere il montaggio velocizzato che ho fatto io per la mia copia di Kid Buu, vi invito a cliccare sul link che troverete nella scheda che apparirà in questo angolo appunto. Se invece siete impazienti andiamo a vedere subito il nostro Kid Buu già montato. Ed ecco qui la nostra figure montata. Allora, prima di tutto vi dico che se fosse interessati come al solito a questo Kid Buu, potete acquistarlo direttamente dal mio negozio Aras Reviews Shop che trovate qui sotto in descrizione, oppure apparirà la scheda qui in alto, oppure potete anche contattarmi con i contatti che trovate sempre qui sotto in descrizione. Tra cui profilo Facebook, pagina Facebook e email privata. Detto questo andiamo a vedere gli accessori da cui è accompagnato questo Kid Buu. Partiamo prima di tutto con questo che è una piccola base che si collegherà con gli effetti energetici che vedete lì appunto si possono inserire in questo perno che tra l'altro è articolato. Inoltre la base è anche regolabile in questo modo, vedete si alza e si può anche abbassare in questo modo. Niente male comunque questa piccola base. Inoltre abbiamo un viso intercambiabile, eccolo qui ragazzi, con questa bocca aperta, un'espressione abbastanza psicopatica, proprio come deve essere per il nostro Kid Buu. Devo dire niente male come realizzazione. Allora c'è da dire che i denti e la lingua che vedete nella bocca sono degli adesivi e devo dire che, anche se io odio gli adesivi personalmente, non rendono affatto male. E invece gli occhi non sono adesivi e questa cosa mi ha sorpreso molto, ero già convinto che gli occhi dovessero essere degli adesivi, invece la parte nera è anche separata tra l'altro da quella rossa, quindi c'è un minimo di rilievo e non è niente male questa cosa. Vi dico un'altra cosa, queste parti, i puntini neri che vedete, li ho fatti io, c'è lo sculpt naturalmente, però l'interno è rosa come li ho fatti semplicemente con un pennarello indelebile nero ragazzi, non ci vuole assolutamente nulla. E secondo me fare i puntini addosso rende la figure molto migliore. Inoltre abbiamo anche queste due mani a palmo aperto, comunque è una buona opzione per qualche posa e poi abbiamo quest'altra piccola parte che si collega sulla schiena del nostro Kid Buu e poi si può collegare, vedete qui, allo stand e in questo modo appunto Kid Buu riesce a reggersi sulla base. E per finire abbiamo gli effetti energetici, il primo che è questa sfera viola trasparente, come vedete naturalmente è in plastica vuota, con questi fulmini sopra, niente male comunque come effetto e poi qui abbiamo questa parte che si collegherà all'avambraccio del nostro Kid Buu, volendo si può anche rimuovere. E inoltre abbiamo quest'altro effetto energetico che è un raggio sempre fatto in viola trasparente, c'è anche un po' di dettaglio di scalpo e devo dire niente male, qui c'è appunto il foro per far reggere anche questo su questo stand. Ora andiamo a vedere il nostro Kid Buu, come vi ho detto la figura è praticamente come la si trova nella confezione, tranne che qualche piccola aggiunta che ho fatto, ovvero ripeto i puntini neri e poi ragazzi ho modificato le parti dorate. Perché? Inizialmente andavano messi, vedete questi adesivi che sono di questo color dorato molto molto metallizzato e sinceramente a me non piaceva molto, allora che ho fatto? Ho tolto gli adesivi e ho dipinto diciamo a pennello queste parti con questo dorato. Naturalmente il pennello l'ho voluto usare io, ma si vendono anche dei pennarelli detti Gundam Marker che hanno appunto colorazioni tipo dorato, argentato e servono appunto per fare questi piccoli ritocchi ai model kit, quindi anche con il pennarello sarebbe andato bene. Comunque ragazzi, questo qui è Kid Buu, devo dire che non è niente male, me lo aspettavo molto peggio sinceramente e invece è una figure di buon livello, soprattutto per quanto riguarda le articolazioni che poi vedremo dopo. E devo dire che comunque anche lo scout generale rispetta molto la fisionomia del personaggio, soprattutto il viso mi piace tantissimo con questi denti stretti e ancora una volta lo sguardo psicopatico. I pantaloni sono bianchi con tutte le pieghe, comunque anche queste ben fatte, poi vediamo anche le scarpe qui, fatte in questo color senape, lo vediamo anche sul retro, questa è la parte su cui bisogna inserire questo aggeggio per farlo reggere poi sullo stand. Comunque anche per quanto riguarda il retro è molto ben realizzato. Adesso andiamo a vedere le articolazioni, abbiamo la testa qui su sfera e può guardare abbastanza bene verso l'alto, può guardare anche un po' verso il basso, può muoversi lateralmente in questo modo e secondo me è una cosa molto importante per questo personaggio, per qualche sguardo psicopatico con la testa rivolta verso un lato. Poi abbiamo naturalmente la rotazione laterale in questo modo, qui alle braccia mi ha sorpreso molto l'articolazione, abbiamo la solita cerniera, però inoltre abbiamo anche la sfera interna che permette un ulteriore movimento e ancora abbiamo anche la butterfly joint, guardate il braccio può andare più avanti grazie a questa articolazione. Davvero molto molto bene hanno fatto qui, poi abbiamo la rotazione qui al bicipite, articolazione qui al gomito singola e poi abbiamo il polso su sfera che può andare su e giù e può naturalmente anche ruotare lateralmente. Qui a mezzo busto abbiamo questa articolazione a sfera che permette un minimo di movimento in avanti e indietro e anche un po' di rotazione laterale, qui alla vita abbiamo ulteriore rotazione a sfera e anche movimento in avanti e indietro, quindi tutto sommato la somma di queste due articolazioni non è niente male come movimento. Qui alle gambe abbiamo la solita articolazione che va su e in giù delle SH Figures e in questo caso appunto aumenta il raggio della gamba che può andare tranquillamente in avanti, può andare anche all'indietro e può aprirsi anche lateralmente fino qui. C'è anche un minimo di rotazione qui alla parte superiore, inoltre abbiamo il piegamento qui al ginocchio che anche se è una singola articolazione devo dire che non è niente male come raggio, non è bellissimo da vedere però almeno è funzionale. Poi abbiamo la rotazione qui allo stivale, piegamento del piede in su, piegamento del piede in giù e anche la rotazione laterale del piede in questo modo. Quindi ragazzi questo Kid Buu Figures è incredibilmente ben posabile, non me lo aspettavo così ben articolato, devo dire la verità. Comunque andiamo a misurare l'altezza di questo model kit che è la cosa che state aspettando tutti. Allora il nostro Kid Buu misura per la precisione 5 pollici e mezzo ovvero 13 centimetri e mezzo. Naturalmente sappiamo tutti che sarà fuori scala con le SH Figures ma quanto fuori scala andiamo subito a vederlo. Allora questo è Kid Buu e questo è Goku. Ripeto è fuori scala, non dovrebbe essere così tanto grande rispetto a Goku però non è neanche troppo fuori scala devo dire. Per esempio mettendo Goku un attimino più avanti, Kid Buu un attimino più dietro in qualche foto o anche posandolo in questo modo nell'esposizione. Guardate devo dire che non è niente male posato a fianco a Goku. Comunque ve li lascio un attimo fianco a fianco per farvi giudicare personalmente. Comunque questo Goku qui secondo me è ancora molto molto figa come SH Figures nonostante abbia i suoi anni. Adesso è arrivato anche il momento di paragonarlo con il medium moneta Spider-Man che essendo 7 pollici risulta abbastanza bene in scala una volta tanto con il nostro Kid Buu. Detto questo il voto e mi sento di dare a questo model kit è un bel 8.5 ragazzi. Bandai a mio parere ha fatto un grandissimo lavoro. La figura è davvero di buon livello sia come articolazioni che come dettagli e inoltre ci ha tenuto ad includere vari accessori tra cui due effetti energetici e parti intercambiabili e quindi mi ha soddisfatto davvero tantissimo. Ora ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo Kid Buu con un commento qui sotto, lasciate un mi piace se questo video vi è piaciuto e se volete aiutarmi o se volete far vedere questa figura a qualcuno potete condividere questo video. Vi ricordo un'ultima volta che se foste interessati a questo Kid o a qualunque altra action figure la trovate nel mio sito Aras Reviews Shop qui sotto in descrizione. Io vi lascio le pose fighe, ciao da Arada, Kid Buu, Figure Rise e collezionate sempre! Grazie a tutti!